Ma ciao, ma ciao nuovo visitatore. Ciao, sono felice che tu sia passato dal mio capo, veramente, veramente felice. Devo informarti che sul micro farò come inedit, unboxing e testo della roba nuova che mi comprò. Tutorial, colonne sonore, recensioni per ora di album, ma credo che in futuro farò anche di libri. E poi, tanto per finire, anche dei vlog tipo questo alla Casso di Cano con doppia Z. Quindi, che stai aspettando? Lo vedi il pulsantino rosso? Cliccaci, cliccaci, detto cliccaci cazzo, cliccaci, è gratuito, è gratuito, cliccaci. Ti prego, rimani aggiornato su tutto quello che fai. Iscriviti, metti mi piace alla mia pagina Facebook. Dai, quazze cose! Fallo, fallo, non l'hai ancora fatto. Ti vedo solo, fallo, fallo. Vi ringrazio per aver visto questo video e non essere scappati per i ciao, ciao, da Bird Studios. Ci becchiamo, alla prossima! Allora!